Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto questa mattina una corona di fiori a via Caetani dove 40 anni fa venne ritrovato il corpo di Aldo Moro. Alla cerimonia erano presenti tra gli altri il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Altre tre corone sono state poste dal Partito Democratico, dall'Associazione Popolari e dalla Fondazione EIU. Erba alta, cestini rotti, panchine e giochi per bambini impraticabili. Si presenta così il parco delle tre fontane alla Montagnola a due passi dalla sede dell'ottavo municipio. Lo spazio verde è completamente abbandonato e la vegetazione ha ormai invaso i vialetti, hanno raccontato all'Agenzia Dire alcuni residenti esasperati. Ma sono tanti i parchi e le ville di Roma che versano in queste condizioni, dalla Colombo all'Appiantico da Corso Trieste a Villa Borghese e Villa Panfili. 28 concerti sinfonici, 18 da camera, tre importanti tour europei e una lunga tournée in Asia che impegnerà l'orchestra e il direttore musicale Antonio Pappano per quasi tutto il mese di novembre. Sono queste le sfide che l'Accademia di Santa Cecilia si appresta ad affrontare per la stagione 2018-2019. Il cartellone è stato presentato oggi all'Auditorium si partirà il 12 ottobre con West Side Story. Santa Cecilia è un'istituzione mondiale che ci teniamo stretti, ha detto il governatore Nicola Zingaretti. Sulla stessa lunghezza d'onda il sindaco di Roma, Virginia Raggi, l'Accademia è un tesoro e un vanto di questa città. Bilancio positivo per il Teatro di Roma che dal 2015 al 2017 ha totalizzato 336 spettacoli, 330 eventi culturali e 1718 alzate di sipario. I numeri sono stati illustrati oggi dal direttore del teatro Antonio Calbi, riconfermato fino al 2021. I ricavi al botteghino sono cresciuti del 20%, in crescita anche il numero degli spettatori, arrivati a 447.919. Sono soddisfatto, ha detto Calbi. Abbiamo fatto dialogare tradizione e innovazione e i dati sono positivi.